E' scattata l'operazione Livorno prele a Catania di Maran, pomeriggio di lavoro intenso a Torre del Grifo dal punto di vista tattico con un importante ritorno, quello di Ciro Capuano. La truppa dei Terzini così a sinistra si fa affolta e proprio in vista di Livorno il primo dubbio di Maran riguarderà Biraghi o Monzon. Da verificare poi anche le condizioni fisiche di Bellusci e Izco, domani sarà un giorno importante e cruciale per i due. Crescono le quotazioni di recupero Lampo per entrambi e proprio dalla presenza o meno in campo del capitano Rosso Azzurro potrebbero passare anche le scelte di modulo di Rolando Maran. Con Izco difficile abbandonare il 4-3-3 mentre senza il numero 13 Rosso Azzurro e la Catania potrebbe anche pensare al 4-2-3-1 con Leto Castro e Barrientos dietro Bergessio. Curiosità anche per Plasil, capitano della Repubblica cieca che dopo aver giocato contro l'Italia raggiungerà Torre del Grifo nella giornata di domani per allenarsi nel pomeriggio con il gruppo. Il Catania troverà un Livorno che si adatta molto agli avversari, la vittoria in trasferta contro il Sassuolo però non deve mettere paura. Ma attenzione sì, una squadra di legna e corsa con poca qualità quella di Nicola che intanto studia i Rosso Azzurri e soprattutto Barrientos. Mettere la museruola al pitu con Gemity e Duncan potrebbe essere una delle mosse ma Barrientos vuol prendere per mano la squadra dopo il mancato addio. Vuol ripagare sul campo il grande affetto dimostratogli dalla tifoseria.